No, ci rimane pure... è carucci, capito? Non è quelli quadrati, rettangulari, pacchiani, capito? Eh, è vero che cippa! Anche che sta sempre, vabbè, non è che dici... L'ingine, Fabiana nasce quando non... non rimonda solo qua. Eh... Seguire e rimane lì. No, forza, stai! Che gliela vederlo! Ah, tutti i culi ce faccio! Il blocco in un blocco ce fa tutti i cucini, dai! Questo invece è volare, questo funziona! Che foglia! Che foglia! Che foglia di quanto era! Che forza, voglia dimostra, devi prendere una nuova. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Che cosa c'è! ... ... ... ... ... ... si vieni 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 stai guadagnando non c'è lì va per via di là rimanere vieni vieni Vado avanti! Vado avanti! Vado avanti! Vado avanti! Vado avanti! Se fai un metro di filiato eh! Vai vai! Vado avanti! Vado avanti! Vado! Vado avanti! 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 Grazie a tutti, grazie a tutti.